Allora abbiamo una bacchetta con 6 pompon, 4 verbi e 2 rossi, attenzione ai pompon rossi li metto dietro la schiena e magicamente, magicamente il pompon rosso passa dalla mia sinistra alla mia destra L'ho capito, rifarlo? Lo rifaccio, sì, senza problemi, allora i pompon rossi stanno alla mia destra, passo dietro la schiena e voilà Ok, ok, hai girato la bacchetta Come? Hai girato la bacchetta Ah, cioè secondo te io praticamente dietro la schiena facevo così e quindi passavano da una parte all'altra Bravo, sì Farò vedere qualcosa di ancora più incredibile, guarda, attenzione, guardate i pompon alla mia destra Sì Wow, magicamente I pompon rosso dal mia destra Sì, la taglia di cianci L'ho capito Sì Sì